Io non ci passo, sono ingrassatissimo Non ci bucarei Ma non la faccio tagliare Devo stare così tutto al video, se no non mi si vede Ciao a tutti ragazzoni, io sono Fexy Devo parlare da qua, perché se no non mi si vede Perché stai? Ti taglio la macchina Non ti chiede, vieni Non è che sono tutti nani come te Vabbè, starò così tutto il tempo Ho già una di schiena però Oggi ragazzi così, senza un nico particolare Perché tanto voglio dire Non serve E siamo in compagnia con Siamo in compagnia con Dove vai? Siamo in compagnia di Ogni video cambia, non si sa come si chiama Oh madonna Video della vita Penso si sia già capito, no? Devo stare veramente così tutto il tempo Ma le prove tecniche si fanno per questo Una sedia? Perché sto seduto Perfetto, adesso mi si vede Vabbè, non se ne esce Oggi ragazzi, come dicevo Video della vita Una roba che andava di nuova tipo 11 anni fa Noi giustamente lo facciamo adesso Quindi, che cos'è che andremo? Abbiamo a... Vuoi sputarmi sulla mano? Che cosa dolce? Come possiamo vedere abbiamo a disposizione Una scatola Ho rischiato di romperla Di Amazon Tutto a posto? Perfetto E due ingredienti Cioè, no Nel senso Spiego per un mare comunque, è incredibile Ci sono un botto di ingredienti Però da una parte ci sono quelli buoni Dall'altra invece quelli che... Ho ripensato a quello, madonna Sto già per puntare Allora, andiamo a elencare gli ingredienti Tu fai quelli buoni Io quelli cattivi Abbiamo dell'olio Ah, ma aspetta Ma scusa Sto bene No, non sto bene Quello è aceto Come non è olio? Un altro è olio Sarà un video molto lungo Ma essenzialmente non abbiamo detto quello che andremo a fare Ci sono alle estremità due cannucce Che vanno perpendicolarmente in giù Madonna, perpendicolarmente Genius E all'interno di questi bicchieri metteremo Da una parte l'ingrediente buono Dall'altro invece quello cattivo Ma è qua che sta il punto Perché ci andremo a vendare E a turno dovremo andare a scegliere il bicchiere con l'ingrediente buono Altrimenti Chi prende più ingredienti buoni Ovviamente vince Chissà chi sarà mai Figuriamolo Tra l'altro per tutto il video rimarrò Non respirerò Perché così sembrò più magro Respiro ora, respiro poi a fritto Quindi ingredienti cattivi Abbiamo detto Aceto Olio Salsa di soia Che sarà veramente meraviglioso Del limone Che poi andremo a spremere all'interno Mi sono dimenticato giustamente È qua ragazzi L'ho respirato con tutti i polmoni Acqua con all'interno del wasabi Ora vai a elencare invece quelli buoni Latte Latte di mandorla Perché pensavo di essere io a spiegare ma Coca Cola Un po' più Cos'è 7up? 7up? Perché hai preso la 7up? E poi un freeway Si chiama crudino comunque È un crudino freeway Ma è storta la telecamera Vabbè ragazzi voglio dire Tanto si sa che sul mio canale Vige la regola Zero proporzionalità Altrimenti non va bene Quindi Chi è che inizia? Soprattutto vai a prendere la mascherina Se no Però frigo fare i video in piedi Perché posso fare No ti prego Non prendere quella mascherina E di BTS anche questa Chi è che andrà a Fare il primo Giro Prima cattivi Non hai capito niente Cosa vuol dire prima cattivi? Allora Devo mettere entrambi Però tu ti vai a Incelofanare la faccia E io vado a scendere Allora faccio io prima Vai mi vendo E io riempio Io nel frattempo però Non è che non Che vedi in realtà Ma non posso vedere Che cosa sono Ho la vista bionica Ma ti stai muovendo Hai messo Da una parte il buono Dall'altro cattivo giusto? Hai sporcato tutto Bisognerà capire Con la mia forza telepatica Dov'è quello cattivo? Non sento un canno Questa qua Me lo sento No stai ridendo infame Tu hai messo Quello cattivo di qua Per forza dai Provo Latte Madonna Non clicca la te Mi è andato male Vabbè 1 a 0 per me Per il momento Attention Ora tocca a me Andare a preparare L'intruglio Ma adesso nel bicchiere ci sarà Oh i bicchieri qua costano eh Qui Cattivo E di qua invece mettiamo Quello buono Vai abbondiamo Tanto voglio dire Siamo ricchi Togli pure Quale sarà quello buono E quale quello Terribile No ma proprio così? Vieni in acqua Giusto Abbiamo da questa parte Quella buona Quindi al momento Siamo uno Ma basta Quindi al momento Siamo pari Ho sentito già una roba Tipo mezza liquida Mezza densa Ho paura No ti prego Sei infamissima Hai messo il wasabi No Porca di quella No ha messo Ha messo il wasabi Ragazzi Mi raccomando like Perché qua Ah tra l'altro Dove c'è una salsa di soia Non c'è il wasabi Quindi ho fatto un po' Eh Andiamo al sushi Già che ci siamo Allora Ragionamenti incredibili Da Sherlock Pazzi E bicchiere da là Io vado di qua E ti fotto Violenza che ho fatto vita Oppure no Aspetta Potresti aver pensato Di nuovo anche Al mio ragionamento Faccio per voi Come è mischiato È buono Va bene Bevi Non ti prego Assaggialo Ma fa di sushi Non ti preoccupare Ma io non ho paura Siamo 2 a 1 per te Non gongolare Posso anche andare Ad utilizzare lo stesso Posso anche solo invertire Mettere dall'altra parte Il buono Ma per me puoi fare come vuoi Va bene Where is the problem Allora facciamo una bella cosa Lo faccio tra l'altro Anche proprio vicino Alla telecamera Così apprezzano Questo Focus incredibile Ho sentito Una cacca cadere Vabbè Lei sente le cacche Ci siamo ragazzi Ah no Però così Porca Sono deficiente Ho messo 2 schifose Non so fare nulla Preparato l'intruio Puoi andare A scoprirti No tu guardi Ti giuro su mia madre Che non posso guardare Va bene Siamo 3 a 1 Ma non andare a segnare E inferire Sto video fa schifissimo Te lo giuro Non ha senso Non si vede nulla Facciamo ancora un po' di casino Allora Ci siamo Vai Forza Così ti recupero Visto che non mi piace Il fatto che stai vincendo Perché è così alta Quanto ne hai messo Voglio andare a provare Questa volta Dal lato opposto No stai ridendo Ma non è che infame Allora va così Subito Grudino Sembra vomito di troll Siamo 2 a 3 Siamo 3 a 2 per te Giusto? Quindi potrebbe essere La svolta Porco schifo di nuovo Niente Ho la mano tutta smergata Poi ci andiamo a mettere Un po' di questa E poi ci andiamo a mettere Anche un po' di questa Porca la che è schifo Lo vado a posizionare Prego Così sento il potere Di bicchieri Sì qua c'è scritto Fai invidio Non credo ti serva Cosa c'è coca cola No questo l'hai provato E' buono E' questo? No E questo era quello buono Ma tu non puoi dire Pare che siamo 2 a 4 Eh 4 pari La matematica non è un'opinione Io ho finito un po' Perché ho vinto E' già la seconda volta Che provo a inciucciarmi Non diciamo questa volgarita Ora me ne vado Per quanto mi riguarda Ho vinto Poi Ovviamente lei deve sempre barare Quindi Cosa c'è scritto? F Pensi 2 Dalila 4 No Ho vinto io Quindi ragazzi Io vi chiedo scusa Se questo video Non è uscito proprio meraviglioso Nella mia testa era bello Quindi Ma ci sono cambiati di posto Fatemi sapere la vostra Salute tu Sei buggata Rocky Collo 4 SM Canal Belle Lui c'è sempre Incredibile Federico Peri Anche lui c'è sempre E Zaico E l'incitore di oggi è? No Vasabi Olio Di tutto E nulla Che vi devo dire Che vince sempre lui Ma te sto nome? SM Canal Belle Ciao Grandissimo Ciao ragazzi Di nuovo C'è una confusione incredibile Nella tua mente Vabbè mi metto qua Aspetta Ciao ragazzi Ciao Madonna sono terribile Menos male che non mi ha messo poco So Che va Che va Che va ole Uno Ve Che tv Che frei Mi 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 Grazie a tutti